Invenzioni nel campo delle sostanze anticombustibili. E' noto che un pezzo di legno avvicinato ad una fiamma divampa con grande facilità. Solo una vernice a prova di fuoco potrebbe evitarne la combustione. Questa vernice è stata trovata dal signore che vedete, il quale, per dimostrarne in modo inequivocabile le proprietà ignifughe, la esperimenta su di un pezzo di pellicola cinematografica che, come è noto per essere celluloide, è materia particolarmente infiammabile. Ma quando la fiamma raggiunge il tratto di pellicola verniciata, si spegne. E lo stesso effetto si può ottenere sulla pelle umana.